Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto nei prossimi 10 giorni con un timido accenno anche al tempo che farà nella settimana successiva, quindi il tempo fino all'incirca il 17 e poi un accenno alla settimana successiva. Bene, abbiamo già tra i piedi l'anticiclone nordafricano e questo resisterà appena per uno o due giorni col suo caro abbraccio su quasi tutta la penisola, ma già lunedì lascerà il nord Italia e poi successivamente anche le regioni centrali per l'arrivo di una prima perturbazione atlantica e tra il 14 e il 17 lascerà anche il sud Italia per l'arrivo di una seconda perturbazione atlantica. Ma allora andiamo con ordine, a parte questa fugace presenza fino al 10 dell'anticiclone nordafricano, tra 10 e il 13 questa prima perturbazione che porterà a piogge il giorno 10 lunedì sulle regioni di nord ovest e poi tra l'11 e il 13 su tutte le regioni centrali e anche sulla Sardegna, con qualche temporale nella giornata di martedì sulla Liguria. Tra il 14 e il 17 di maggio una seconda perturbazione in arrivo dalla Francia genererà un vortice di bassa pressione in prossimità delle Baleari, il quale poi si sposterà gradualmente verso la Sardegna, poi la Sicilia per terminare la sua corsa sullo Ionio il giorno 17. Questa seconda perturbazione con questo vortice di bassa pressione che porterà correnti meridionali umidi sull'Italia porterà piogge soprattutto sul centro-sud dell'Italia, quindi senza anticiclone nordafricano tra i piedi. Dirò di più, tra il 18 e il 24 di maggio i modelli prevedono ancora fresche correnti atlantiche sull'Italia senza la presenza dello scomodo anticiclone nordafricano. Le temperature saranno in rialzo ovviamente entro gli esi su tutta l'Italia per la presenza dell'africano con massimi intorno a 20-24 gradi, 25-27 sulla Puglia, sul Materano e sulla Sardegna. Poi tra il 12 e il 13 brusco calo delle temperature a seguito delle correnti fresche che seguono la prima perturbazione massima intorno a 20 gradi al centro-nord e quindi valori al di sotto della media prevista per questo periodo dell'anno. Ma poi tra il 14 e il 16, quel vortice di bassa pressione in arrivo dalle Baleare, sospingendo sull'Italia corrente meridionale più tiepide, le temperature saranno di nuovo in rapida risalita fino a portarsi su valori medi previsti per questo periodo dell'anno, ossia massimi intorno a 20-24 gradi. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.